GALU GOL Non siamo più la squadra che magari dici può essere la sorpresa, siamo ormai una conferma. Hai chiesto il cambio, non c'è niente di cui vergognarsi, anzi stai cercando di entrare in forma. È uno schema questo che ti chiede il mister, che impone molto sacrificio. Sì, abbiamo tanti giocatori offensivi, il mister ovviamente chiede di ripiegare in fase difensiva. L'ho fatto, non mi vergogno a fare il lavoro sporco perché è il lavoro che serve alla squadra. A 20 minuti alla fine non ci facevo più, sto cercando di entrare in condizione. Non me ne vergogno a dire che ho chiesto il cambio al mister perché era giusto così. Chi stava meglio entrava e poteva dare il suo. E alla fine al novantesimo abbiamo portato a casa questa vittoria. Hai guagliato il tuo record di gol, 4? Sì, sono a 4, 3 in due partite da Bequa, uno a Real Vicenza. Siamo a 4, adesso bisogna continuare perché bisogna spingere sull'acceleratore adesso. Dedichi particolari? Sì, dedicato alla mamma, come avete visto, che la faccio disperare tutti i giorni. E poi a due persone che sono riuscite nell'ultima ora di mercato a portarmi qui come il mio procuratore e il segretario del Real Vicenza, Pasquale Palladino. Grazie.